Deficienti! Stupidi! Incapaci! Possibile che non ne conviniate mai una giusta, da quanto vede il tuo convinto in un criminale patetico! Uka Uka, non è colpa nostra! È tutta colpa di quel disgraziato di Bandicoot! Non permetterò a nessuno di ostacolare il campino del male, e benché veda non bascolare l'alancione! Rush deve essere fermato! Uka Uka, mi dispiace ricordartelo, ma Rush trova sempre il modo di fermarci! Forse è davvero troppo in gama per noi! Ah, basta con le scuse! Voi cinque idioti fareste meglio a trovare un buon piano! Altrimentiii... Perchè ricordatore di queste situazioni? Deve esserci qualcosa che possiamo fare! Sei un po' dottore, non è fiscale trascettando con un'arma a segreto di giuro, non è vero! Non è vero! Dottor Cortex! Penso si riferisca all'arma al quale ha lavorato giorno e notte, segretamente, con quanto trasce la strantitta! L'arma che dicevi basta con queste discussioni! Ti va piano piano! Il sforzo, il sforzo, costruito una macchina scientificamente modificata in incredibile potenza! Il sforzo, il sforzo, il sforzo, il sforzo e il sforzo! Altro piaceremo! Se io eri strutturizio avremmo abbastanza E io prendo la mia arma, signor! Avremo un'arma in grado di distruggere le montagne E te voli in quella città! E cancellare pensate a Cash Bandicoat dalla faccia della terra! Preparate da fruttare la mia ira! Cash Bandicoat! UGHHHAHHAHAHAHAHAHHAHA!